Eccoci Luciano, primo passaggio di questa Final Four, ho superato a pieni voti, con una grandissima prestazione di squadra, una grandissima prestazione tua che ha messo gli attaccanti nelle condizioni migliori per attaccare, adesso una bella doccia, un po' di riposo e poi domani? Domani mattina saranno qui a fare l'amento e il pomeriggio a provarci a giocarci questa grandissima partita, grandissimo spettacolo, sicuramente sarà da soffrire, sarà da lottare e sarà da mettere in campo tutto quello che abbiamo perché comunque tanto la Lube come quello che fosse arrivato in finale è una gara molto tosta, molto difficile e ci serve il tutto e di più per fare il risultato. Senti prima di parlare della finale una cosa, questa è, si ripete la finale della Supercoppa, secondo te vuol dire qualcosa oppure è un caso? Quello che è passato è passato, abbiamo giocato già quattro volte quindi tutti abbiamo vinto due, loro due, succederà che possono vincere loro come possiamo vincere noi, abbiamo il 50% delle chance e proveremo a sfruttarle tutte quante. Come si decide domani la partita con la Lube? Una squadra che riceve benissimo, che è una gran battuta, che dobbiamo fare noi? Dobbiamo avere un po' di fortuna e sicuramente fare la nostra migliore partita. E averci anche il sostegno del pubblico, vero Luciano? Sono venuto in tanti, veramente vi faccio i complimenti a tutti quanti che sono venuti questo weekend, abbiamo ancora dimostrato di riempire quasi tutti i palazzetti d'Italia, la prossima volta che mettono la Coppa d'Italia più lontano verranno comunque, quindi grazie mille per i viaggi e niente, saremo qui domani sicuramente a goderci questo pieno weekend, piena domenica di spettacoli per la famiglia e per la pallavola. Grazie Luciano, in bocca al lupo.